... al codice sui contenuti posto nell'angolo inferiore destro di questa diapositiva. Acquisizione di un modello 3D per una Hybrid Restoration CS3600. Benvenuti al CS3600 Acquisizione di un modello 3D per una Hybrid Restoration. Questo corso registrato è progettato per i membri del team clinico e fornisce istruzioni sull'acquisizione di un modello 3D. Il corso espone in dettaglio i passi per acquisire immagini della mascella, della mandibola e della registrazione del bite buccale. Inoltre insegna come preparare una scansione e controllarla in termini di coerenza e qualità. Il flusso di lavoro Hybrid è stato sviluppato per aiutare i dentisti che devono affrontare la sfida di scansioni profonde o linee di margine sub-gengivali o casi con sanguinamento molto abbondante. Questo nuovo flusso di lavoro evolutivo vi permette di acquisire una scansione in vivo e anche una scansione di impronta parziale convenzionale che il software unisce automaticamente in un'unica rappresentazione a mesh. Il flusso di lavoro ibrido vi permette di acquisire tre impronte parziali per ciascuna arcata. Unendo merging i due dataset, il modello 3D finale beneficia della elevata accuratezza della scansione digitale in vivo, nonché della capacità dell'impronta convenzionale di penetrare il solco gengivale e di registrare aree che non sono visibili allo scanner intraorale. Inserire nota nella diapositiva. Scansione della mascella Per prima cosa, accedete alla CS3600 Acquisition Interface, interfaccia di acquisizione, facendo clic sull'icona CS3600 nell'Imaging Software. Poi selezionate Restoration, Hybrid Scan, Protesi, Scansione Ibrida, e quindi fate clic su Yes. Ora siete pronti a iniziare l'acquisizione. Nel software di acquisizione, scansioneremo una mascella, una mandibola e una registrazione del bite boccale. Inizieremo con la scansione della mascella. Fate clic sull'icona Upper Joe, ossia Mascella. Iniziate disponendo lo scanner secondo un angolo di 90 gradi sopra la superficie occlusale dei denti. Le immagini sono acquisite automaticamente e trasferite alla schermata di visualizzazione del modello 3D. Inclinate lo scanner verso la superficie linguale in modo che vi sia una sovrapposizione tra l'ultima immagine e la nuova immagine. Il software combina automaticamente le immagini in un unico modello 3D più grande. Spostate il Siest 3600 su un angolo a 45 gradi rispetto alla superficie linguale dei denti per acquisire l'immagine successiva. Una volta completata la scansione della superficie linguale, scansionate la superficie buccale, accertandovi di acquisire il bordo incisale. È importante acquisire i dati per le superfici interprossimali vicine. Continuate acquisendo immagini dei denti circostanti per completare il modello 3D. Cercate di acquisire parecchi millimetri di tessuto molle attorno alle superfici buccali e linguali. Durante l'acquisizione, è possibile che alcune aree del modello 3D siano evidenziate in giallo. Riscansionate quelle aree finché il colore giallo scompare. Non facendolo, il modello risulterà incompleto. Evidenziazioni in giallo minori sono permesse nelle aree interprossimali e non produrranno come conseguenza un modello 3D finale incompleto. Se nell'immagine scansionata sono visualizzate delle lacune vicino all'area della protesi, riscansionate l'area finché le lacune non saranno riempite. Le lacune sono evidenziate da un colore verde. Si noti che questa funzione non è disponibile nel modo ad alta risoluzione. Una linea verde con una freccia rossa indica una connessione debole tra le superfici buccale, linguale e occlusale. Questo potrebbe causare un errore di unione, stitching, dell'immagine, specialmente sugli incisivi. Con lo scanner, seguite il percorso delle frecce per acquisire le informazioni mancanti. Continuate a scansionare l'area finché le frecce scompaiono. Scansione della mandibola Selezionare l'icona Lower jaw, Mandibola, e scansionate la mandibola analogamente a quanto fatto per la mascella. Durante il processo di acquisizione, riasciugate i denti quanto necessario. Se nell'immagine scansionata sono visualizzate delle lacune sull'area della preparazione, riscansionate l'area finché le lacune non siano riempite. Per un esame più da vicino, utilizzate la rotellina del mouse per zoomare sull'area della preparazione. Utilizzante il pulsante Freeze, Fermo immagine, per ottenere il blocco della visualizzazione. Se durante l'acquisizione riscontrate artefatti sul tessuto molle di un'immagine, fate clic e clic tasto sinistro su parecchi punti attorno al tessuto molle per tracciare delle linee attorno a tale tessuto. Fate doppio clic per eliminare il tessuto molle. Riscansionate l'area per riempire ogni eventuale lacuna. Fate clic sullo strumento Brush, Pennello, per marcare l'area di margine sulla scansione in vivo, in modo che solo l'impronta sull'area di margine selezionata sia unita, Merging, alla scansione in vivo. Acquisizione della registrazione del bite buccale. Se acquisite immagini dei denti sia della mascella che della mandibola, dovete acquisire anche la registrazione del bite buccale. Prima di procedere all'immagine del bite buccale, assicuratevi che non ci siano lacune o dati mancanti sulle superfici buccali dell'arcata della mascella o della mandibola. Selezionate l'icona Buccal Bite, Bite buccale. Fate chiudere il bite al paziente e tenete lo scanner con un angolo di 90 gradi rispetto alla superficie buccale dei denti. Posizionate lo scanner sull'area della preparazione e allineate il piano occlusale nel mezzo della finestra di anteprima. Spostate il SIEST 3600 leggermente su e giù per far avviare l'acquisizione del bite buccale. Ciascuna immagine del bite buccale che ha avuto successo è indicata da un pallino nella parte bassa della schermata. Un'immagine riuscita del bite include sia l'arcata mascellare, sia quella mandibolare. Per aumentare l'accuratezza del bite, potete acquisire più immagini del bite buccale. Dovete acquisire almeno tre immagini del bite buccale per un'arcata parziale. I numeri di bite dipendono dalla lunghezza. Selezionate un puntino per mostrare il bite di quella acquisizione. Selezionate un puntino ed eliminatelo se il bite non è ben in corrispondenza e poi attenetevi alla procedura di scansione per riacquisire l'immagine del bite buccale. Fate clic su NEXT. Scansione dell'impronta Scansionate l'impronta per ottenere dati addizionali sull'area di margine che saranno uniti, merging, alla scansione in vivo, fornendo una visualizzazione migliorata del margine sub-gengivale. A tale scopo, fate clic su NEXT avanti per scansionare il modello dell'impronta. Fate clic sull'icona IMPRESSION – Impronta. Scansionate l'impronta. Potete scansionare fino a tre impronte per ciascuna arcata. Accertatevi di scansionare l'impronta con grande attenzione e che non manchino informazioni. Per ciascuna scansione di un'impronta, cercate di acquisire almeno tre o quattro denti. Dopo aver scansionato con successo le impronte, e se siete soddisfatti delle immagini, continuate con il passo CHECK – CONTROLLO. CHECK – CONTROLLO Il passo CHECK – CONTROLLO mostra i dati in vivo uniti, merging, in un unico file con i dati di scansione provenienti dall'impronta convenzionale. Questo migliora significativamente la qualità dell'acquisizione dei dati del margine sub-gengivale per un progetto maggiormente ideale e meglio adattato alla protesi finale. Potete utilizzare diversi strumenti per esaminare attentamente il modello 3D e per verificare undercut, sottosquadro, occlusione e distanze tra punti nella bocca e anche per regolare il byte. Fate clic su Next avanti per la rifinitura dell'immagine. Manipolate il modello 3D rifinito utilizzando i seguenti metodi. Clicca Tasto destro e tenete premuto sul modello 3D per spostarlo nella finestra. Clicca Tasto destro e tenete premuto sul modello 3D per ruotarlo. Se il vostro mouse ha una rotellina di scorrimento, utilizzate la rotellina per zoomare sul modello 3D, aumentando o riducendo le dimensioni. Quando eseguite questo passo, accertatevi di esaminare il modello per ciascuno di questi punti. Lo spazio clusale è accettabile? L'undercut, sottosquadro, è stato rimosso? La linea di margine è accettabile? Se siete soddisfatti del controllo del check della preparazione, fate clic su Check all, controllo tutto, e poi fate clic su OK per esportare il modello 3D verso l'imaging software. Per visualizzare i vostri modelli 3D, utilizzate il CS Mesh Viewer che è stato installato sul vostro desktop. Per istruzioni sull'utilizzo di Mesh Viewer, fate clic sul pulsante Help, Aiuto, nell'interfaccia di CS Mesh Viewer. Questo conclude il corso CS 3600, Acquisizione di un modello 3D per una Hybrid Restoration. Ora dovreste essere in grado di Acquisire un modello 3D di un'arcata parziale utilizzando il CS 3600. Rifinire ed esportare l'immagine. Per qualsiasi commento o domanda su questi contenuti, contattateci, facendo riferimento al codice sui contenuti posto nell'angolo inferiore destro di questa diapositiva. Grazie per la visione!